Ciao a tutti belli e brutti, devo dirvi con questo breve video cosa bisogna fare se si è nervosi. Andate su YouTube e cliccate sulla scritta del motore di ricerca video fantozzi. La vi beccano tutti i video, ci sono anche i film intieri, guardate bastano 3 minuti di fantozzi e vi cambia la giornata, vi cambia la giornata. Anche se sono vecchi, anche se li avete rivisti, andate su YouTube, cliccate video fantozzi e vi fate di quelle risate clamorose. Arrivederci carissimi, arrivederci.